I posti italiani estende i suoi servizi presso le stazioni di servizio Eni. Sono infatti circa 2.800 in tutta Italia l'Eni Station nelle quali è attivo il pagamento dei bollettini Pago.pia, il servizio con il quale è possibile pagare tasse, bolli e altre tipologie di versamento a favore della pubblica amministrazione, che si aggiunge così alla possibilità di effettuare il pagamento dei bollettini postali premarcati. Inoltre in circa 450 gestori Eni Station un accordo tra posta italiana ed Eni consente ai titolari di carte banco posta e poste pay di prelevare da un minimo di 30 a un massimo di 100 euro presso le stazioni di servizio a fronte dell'erogazione di carburante per un importo minimo di 20 euro.